mi scusi buon uomo mi sa dire l'ora per favore e 5 e 35 ma è sicuro e 36 grazie prego ha mangiato il ciuchino eh e no senta mi sa dire che ora sono adesso androrta le 7 e un quarto ma sono le 7 e un quarto spaccare incredibile ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino scusi no io le arzo sotto c'è il campanile vedi già vedi 7 e un quarto